Ciao ragazzi e ragazze, è l'Inter se la gode, al di là dello scempio, almeno dal mio punto di vista finale del gol annullato secondo me in maniera vergognosa, adesso ci arriviamo, l'Inter se la gode anche perché con una giornata al termine del girone di andata, se non erro, si candida. Campione d'inverno, almeno penso sia così, se la matematica non è un'opinione, per poi candidarsi campione d'Italia come dicono le previsioni da me messe in atto da circa 4-5 mesi entro metà febbraio, fine gennaio metà febbraio. Però gente c'è da dire che questa partita, al di là dell'episodio, doveva finire in pareggio gente, in pareggio, per quello che si è visto in campo. Il Milan non meritava assolutamente di perdere questa partita. Secondo me, trovo scandaloso annullare questo gol, almeno dal mio punto di vista, poi per carità mi posso anche sbagliare, non è che quello che dico io a legge. Perché Giroud, rimanendo per terra, secondo me non partecipa assolutamente al gol. Anzi, è un giocatore del Napoli, se non erro, che fa l'ultimo tocco. E pare che Giroud non lo disturbi neanche. Quindi, secondo il mio modesto parere, quello era un gol regolarissimo. Ok, sono andati a vederlo al VAR, ma secondo il mio punto di vista, per carità, magari mi posso anche sbagliare, prendetela con le molle questa mia dichiarazione. Quello lì è un gol che andava dato, gente, nella maniera più assoluta. Allora, venendo alla partita, non è che ci sia moltissimo da dire. È stata una partita bella, non bellissima, le squadre hanno giocato a viso aperto. Però, per quello che si è visto in campo, non è che ho visto tutta questa superiorità del Napoli. Quindi, secondo il mio modesto parere, il pareggio era il risultato più giusto. Le assenze del Milan sicuramente hanno pesato di più, perché quando tu vai in campo senza Teor Nandez, senza Calabria, che sono i due terzini titolari, senza Leao, senza Rebic, gente, è veramente dura. È veramente dura anche perché tu non è che puoi affidarti ad un quarantenne che tutte le volte ti possa risolvere le partite, ragazzi. Anche perché non è possibile. Sì, anche il Napoli aveva le sue assenze, per carità, però, secondo me, quelle del Milan hanno pesato un pelo di più. Lo si vede anche dal risultato. Il Napoli ha questo giocatore, comunque, in mezzo al campo, di nome Zedischi, che è veramente, secondo me, uno dei centrocampisti più forti d'Europa. Veramente un calciatore completo a 360 gradi. Classico centrocampista che tutte le squadre vorrebbero avere perché fa tutto. Fa veramente tutto e secondo me è stato il migliore in campo. Anche Elmas ha fatto una buona partita. Hanno criticato tutti lo spallettone per aver tenuto Mertens in panchina, ma quando vinci, secondo il mio punto di vista, hai sempre ragione tu. Anche se Petagna è un calciatore alquanto e mi sto tenendo basso. Scandaloso, gente, scandaloso. Per il resto, veramente, c'è poco altro da aggiungere perché la partita è stata molto equilibrata e, secondo me, poteva finire benissimo in pareggio. E l'Inter, gente, purtroppo, mi due al cuore dirlo, ma è così, se la gode, se la gode, se la gode. Dai, like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, delle notifiche su tutte e sempre da sportivi, ragazzi, fino alla descrizione. Forza Juve!